Scienze, lezione 3. Gli ormoni sono messaggeri chimici Il nostro corpo dal momento del concepimento fino all'età adulta si sviluppa in modo armonico ed equilibrato grazie alle funzioni di controllo e coordinamento svolte dal sistema nervoso ed endocrino. Il sistema endocrino è costituito da organi non collegati fisicamente tra loro e diversi per forma e per localizzazione. Il sistema endocrino collabora con il sistema nervoso Per trasmettere informazioni, il nostro organismo, oltre che del sistema nervoso, si serve anche di sostanze chimiche prodotte dalle cellule che formano gli organi del sistema endocrino Il sistema endocrino è costituito da un insieme di ghiandole e cellule che producono sostanze chimiche chiamate ormoni, le quali agiscono su specifici organi bersaglio L'azione coordinata del sistema nervoso e del sistema endocrino permette lo sviluppo del corpo, il suo funzionamento e il mantenimento delle condizioni di equilibrio interno Alcuni studiosi infatti parlano di un sistema neuroendocrino per sottolineare la stretta relazione esistente tra gli ormoni e le cellule nervose che ne controllano l'attività Le ghiandole endocrine riversano i loro prodotti all'interno del corpo, direttamente nei tessuti circostanti o nella maggior parte dei casi nel sangue che poi le trasporta le cellule bersaglio Le parole endocrino deriva dai termini greci endo che significa dentro e kreinein che significa riversare, secernere, ormone deriva da ormon che significa sostanza che dà stimolo Le cellule endocrine producono l'ormone e lo riversano nel sangue Le molecole di ormone sono trasportate da sangue L'ormone raggiunge le cellule bersaglio e ne modifica l'attività A differenza del sistema nervoso dove gli impulsi nervosi viaggiano a grande velocità il sistema endocrino agisce più lentamente gli ormoni, diffondendosi nel sangue, necessitano di più tempo per raggiungere l'organo bersaglio Sebbene le ghiandole endocrine siano le principali produttrici di ormoni alcuni organi non endocrini come il cervello, il cuore, i reni, il fegato, i polmoni, il timo, la pelle e la placenta in particolari condizioni possono produrre e rilasciare ormoni Il livello degli ormoni nel sangue può essere influenzato da fattori come lo stress le infezioni e i cambiamenti nell'equilibrio idrosalino del corpo 7.9 La regolazione della produzione di ormoni Il controllo di una ghiandola endocrina su un organo bersaglio non è quasi mai unidirezionale Di solito infatti le ghiandole sono influenzate dalle molecole prodotte dalle loro cellule bersaglio tramite un meccanismo di feedback negativo Il feedback negativo implica una serie di passaggi 1. uno stimolo attivo alla ghiandola endocrina che secerne l'ormone 2. la concentrazione di ormone nel sangue aumenta e le cellule bersaglio rispondono 3. l'aumento della concentrazione dell'ormone o la produzione di un segnale da parte delle cellule bersaglio inibisce l'attività della ghiandola che non produce più l'ormone Il feedback positivo è invece un meccanismo che amplifica le risposte Ne è un esempio il sistema che regola la produzione di latte nei mammiferi Le ghiandole mammarie producono latte solo in particolari condizioni dopo il parto e a seguito della suzione da parte del neonato Normalmente infatti l'ipotalamo ha un'azione inibitoria sull'ipofisi la quale non produce prolattina Di conseguenza non si ha la produzione di latte Quando il neonato si attacca al seno esercita uno stimolo che blocca l'effetto inibitorio dell'ipotalamo Di conseguenza l'ipofisi produce la prolattina e la ghiandola mammaria in latte Questo è un esempio di feedback positivo Vediamo da vicino le ghiandole del sistema endocrino Il sistema endocrino è costituito da ghiandole che hanno aspetto e dimensioni molto diverse e sono localizzate in parti del corpo distanti tra loro Alcune hanno solo funzione endocrina mentre altre come il pancreas possiedono anche cellule esocrine che riversano il loro secreto in cavità comunicanti con l'esterno L'ipofisi ha le dimensioni di una nocciola è situata sotto l'ipotalamo a cui è collegata da un peduncolo ed è formata da due parti Il lobo anteriore è una vera ghiandola endocrina Il lobo posteriore è formato da assoni di cellule nervose dell'ipotalamo che a loro volta producono ormoni Il lobo anteriore dell'ipofisi produce ormoni che agiscono su altre ghiandole tra cui le surrenali, le tiroide e le gonadi L'ormone della crescita è la prolattina che nella donna stimola la produzione del latte Il lobo posteriore dell'ipofisi produce l'ormone antidiuretico che regola la produzione di urina l'ossitocina che nella donna stimola le contrazioni dell'utero al momento del parto e la produzione di latte L'epifisi si trova alla base del cranio e produce la melatonina un ormone che regola i ritmi sonno-veglia La sua produzione massima è al buio mentre è inibita dalla presenza della luce La tiroide è una ghiandola a forma di farfalla situata nella parte anteriore del collo davanti alla trachea produce la tiroxina che regola la velocità delle reazioni cellulari e la calcitonina che riduce la calcemia favorendo la deposizione del calcio nelle ossa Le paratiroidi sono quattro piccole ghiandole situate vicino alla tiroide producono il paratormone che fa aumentare la quantità di calcio nel sangue e che ha quindi l'effetto opposto a quello della calcitonina Il pancreas oltre a produrre i succhi pancreatici è anche una ghiandola endocrina esso produce due ormoni l'insulina che fa diminuire il livello di glucosio nel sangue e il glucagone che invece lo fa aumentare I due ormoni prodotti dal pancreas hanno azione antagonista in modo da mantenere costante la glicemia Le ovaie sono organi femminili che stimolati dalle ipofisi producono estrogeni e progesterone Oltre a permettere lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari questi ormoni regolano la maturazione delle cellule uova e agiscono sui tessuti dell'utero preparandolo a un'eventuale gravidanza I testicoli, le gonadi maschili producono il testosterone un ormone che stimola la produzione degli spermatozoi e la comparsa dei caratteri sessuali secondari la produzione di ormoni da parte dei testicoli è sotto il controllo dell'ipofisi Le sue renali sono due ghiandoli poste sopra i reni producono diversi tipi di ormoni tra cui il cortisone che combatte i processi infiammatori e l'adrenalina che viene prodotta in condizioni di stress Zoom, le patologie del sistema endocrino Il malfunzionamento di uno più ghiandole endocrine può influire pesantemente sull'equilibrio generale del corpo Il malfunzionamento di uno più ghiandole endocrine può influire pesantemente sull'equilibrio generale del corpo In alcuni casi, per esempio, l'ipofisi produce una quantità insufficiente di ormone della crescita causando il nannismo ipofisario Oggi questa malattia, che provoca un arresto della crescita si cura facilmente somministrando l'ormone ottenuto grazie all'ingegneria genetica Un eccesso di produzione dello stesso ormone provoca invece gigantismo che si manifesta con un accrescimento eccessivo delle ossa lunghe La tiroide è invece sensibile alla quantità di iodio assunto con la dieta Lo iodio, infatti, è indispensabile per la sintesi degli ormoni tiroidei La sua carenza provoca un aumento smisurato della dimensione della tiroide che si manifesta con un ingrossamento del collo, detto gozzo Oggi questa malattia si previene grazie all'uso del sale da cucina arricchito di iodio